Sequestrati a Palermo dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, un'associazione sportiva che gestisce i campi di calcetto e due conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro in esecuzione di un provvedimento di confisca emesso dal Tribunale di Palermo. I beni sono stati confiscati a Salvatore Buffa, appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio, già arrestato nel 2002 per associazione a delinquere di tipo mafioso e estorsione, è condannato nel 2008 con sentenza divenuta definitiva a tre anni di reclusione. La confisca, eseguita dal GICO del nucleo di polizia tributaria, conclude il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale, iniziato nel 2011 a carico di Buffa. I beni riconducibili a lui e al suo nucleo familiare infatti erano stati sequestrati in quanto sproporzionati rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati. Ciò ha fatto ritenere che gli stessi fossero stati acquisiti illecitamente o con il frutto di attività illecite. In particolare le indagini hanno permesso di giungere alla confisca dell'impianto sportivo, frutto del rimpiego di attività illecite, nonostante Buffa lo avesse fittiziamente intestato ad un proprio familiare, proprio allo scopo di preservarlo da futuri provvedimenti di sequestro o confisca. Nell'impianto sportivo, tra l'altro, si sarebbero svolte riunioni del sodalizio mafioso. Grazie a tutti.